Salve a tutti, ciao a tutti, saluto a tutti. Oggi vi parlerò di una promessa d'amore non mantenuta. La promessa d'amore tra i mass media e le lingue minoritarie. E' un'amoranda da tanto tempo, ma questo è un problema. E' un problema che mi sono posto un sacco di volte, per quello che poi faccio questo mestiere. Stefano Zecchi diceva che l'uomo è ciò che guarda, e questo è vero. Cioè, i mass media, la televisione, da quando è nata, è sempre stato allo specchio della cultura di massa. Dobbiamo analizzarlo, questo fatto. E questo è tanto più vero quando si parla delle minoranze linguistiche. Dobbiamo chiederci perché non c'è mai stato un passo in più. E dobbiamo chiedercelo, soprattutto immaginando cosa vuole la gente. Cosa vuole la gente? Cos'è che vuole questa massa, questo popolo? Noi che ci occupiamo di editoria ce lo chiediamo tutti i giorni. Che cosa vuole la gente? Soprattutto in questo periodo. I cambiamenti sono repentini. E le lingue minoritarie sono escluse nella società, dai processi principali, esattamente come nei media, che sono lo specchio fedele di ciò che non succede nella società. La lingua sarda è in tv quanto basta, esattamente come la lingua sarda è nella società quanto basta, o quanto la vogliamo. Ci sbattiamo un sacco di volte per dire, eh, quanto sarebbe bello la lingua sarda nella società. Poi però non c'è. E non è che ci stiamo sbattendo a terra per dire, no, ma ci doveva essere. No, ormai è così. La prendiamo un po' per quello che succede. Ci sono diversi fattori su cui ho riflettuto, del perché questo rapporto è così complicato. Ci rifletto ormai da tantissimo tempo. Cioè il mio lavoro come editore televisivo, il mio lavoro come conduttore televisivo, è impergnato principalmente su questi aspetti. Ci sono tre fattori principali su cui ho riflettuto, perché in questo momento di grandi cambiamenti siamo passati, ci pensate, adesso giusto per avere una parentesi, siamo passati nell'arco di 15 anni dall'analogico, cioè dai canali dallo 0 al 9, siamo passati a centinaia di canali, all'on demand, all'over the top TV, alla VOD, video on demand, a Netflix, Amazon Prime, eccetera. Ma in pochissimo tempo, dopo aver visto la televisione, per 40 anni, sempre identica. E allora ci sono questi tre aspetti su cui ho ragionato. Uno è il rapporto con la pubblica amministrazione, con i finanziamenti in generale. L'altro aspetto è legato ai modelli di business, cioè come funzionano i modelli di business nel mondo dell'editoria. E l'ultimo è la capacità e la resilienza di chi si occupa di media di adeguarsi al processi tecnologici che sono in atto, che sono appunto velocissimi. Allora, per quanto riguarda la parte dei finanziamenti pubblici, sarò brevissimo. Allora, è un fatto incredibile. Io sono convinto di una cosa. Leggi obsolete generano il fallimento delle imprese. Questo è un dato di fatto assoluto. Per cui, se è vero che io sono una tv locale e sono l'ultimo baluardo per la difesa della mia lingua, io molto spesso sono costretto a non evolvermi per star dietro alle leggi che mi finanziano. La legge arretrata. E io non mi evolvo. Quindi sono costretto all'immobilismo. Perché se mi evolvo, poi faccio una cosa che non è scritta nella legge. E quindi chi me la finanzia? Nessuno. Allora non la faccio. Lascio l'antenna, esattamente come vent'anni fa, perché la legge mi finanzia l'antenna, non mi finanzia la rete, non mi finanzia la fibra, non mi finanzia roba nuova, tecnologie innovative. Per cui bisognerebbe lavorare un po' per accelerare questo cambio normativo. Poi ci sono i modelli di business. Le televisioni sono nate con la pubblicità tabellare, ogni 12 minuti, poi c'è la pubblicità, pubblicità. Blah, 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 blah. Con un rapporto abbastanza strano con le imprese che investono su queste trasmissioni. Cioè c'è la trasmissione, c'è l'investitore, la pubblicità in rotazione. Ma che rapporto c'è tra territorio, impresa, popolazione, cittadini e quello che va in onda? Boh, dipende. Il grande mainstream se ne sbatte abbastanza di quello che c'è sotto. Le tv locali potrebbero fare qualcosa di più. E allora dovrebbero cambiare il loro modello di business. Cioè iniziare a lavorare con le aziende del territorio, con i cittadini, per creare delle opportunità che ci consentono in questa nuova fase dei media un'interazione e una condivisione tale che ci consente di portare le istanze, i bisogni delle persone dentro il mass media. Forse questo agevolerebbe anche le minoranze linguistiche. Non lo so. Può essere. Ultima cosa, l'adattamento ai processi tecnologici. Allora, è ovvio che se io sono una grande major europea, per me è facile, io guido, la tecnologia cambia e cambia insieme a me. Ma se io sono una piccola tv che vende la pubblicità a un euro al secondo, ma dov'è che me la cambio sta tecnologia? Com'è che posso stare dietro a questa tecnologia? È praticamente impossibile. E poi in più, se sono uno che si occupa di minoranze linguistiche, mi finanziano, ho difficoltà a vendere la pubblicità e vivo in questa bolla che è esclusa dall'economia del mio territorio, mi muovo con questo finanziamento che mi tiene rinchiuso, sono incapaci di relazionarmi con il mondo circostante e quindi non mi evolvo. Cioè sono destinato all'immobilità e quindi alla morte. Dal punto di vista imprenditoriale è un'equazione presto fatta. Allora voi direte, ma voi tasiabini e novi, ma che cosa ci vuoi dire? Qual è la soluzione? Non lo so se c'è una soluzione. Io però vi dico qual è la mia visione. Io da quando ho iniziato a fare questo lavoro ho pensato che non potevo più usare le parole che erano state usate prima per parlare di quello che avrei voluto fare. E ho pensato che se devo pensare alle minoranze linguistiche non devo più pensare solo a me stesso. Non devo pensarmi intanto come minoranza, devo pensarmi come una cultura del mondo che fa parte di un mondo globale molto più ampio, è una civiltà globale molto più ampia, rispettosa, capace di capire gli altri e dentro questa mi devo muovere. In Europa ci sono circa 80 lingue minoritarie che convivono con le 24 lingue ufficiali dell'Europa. 80 lingue minoritarie, riconosciute agli Stati, riconosciute alle norme, dalle leggi europee, da Strasburgo fino alla Carta Europea delle Lingue Regionali Minoritarie del 92, fino agli atti che stanno tutti dentro a quel grande consesso che è l'Europa unita nella diversità. Voi ho magari suonato questa cosa, ma ci ragioniamo. Mai in un altro giorno vengo e parliamo di unità, uniti nella diversità, che cosa significa? Però io penso a un popolo trasversale molto più ampio di quello sardo e questo è il mio punto di partenza in assoluto. L'altra questione è che c'è una parola chiave su tutto, che è condivisione. E IATV, che è l'azienda che ho fondato qualche anno fa, è partita sempre solo da questa parola, dalla parola condivisione. Condividere significa creare un mezzo di comunicazione nuovo che parta dalle culture, che sia vicino alle imprese, che sappia dare valore alle imprese del territorio, alle culture del territorio e restituire continuamente quello che viene prodotto. Io immagino vettori di mass media che siano capaci di creare anche contenuti che non solo sono vicini ai territori, alle culture, alle lingue, ma che creino anche degli standard comportamentali, che siano un esempio per le persone, che veicolino contenuti di rispetto che adesso non ci sono. E questo è un grandissimo problema. Io ho pensato sempre che le nostre culture e le nostre lingue debbano trovare uno spazio nei mezzi di comunicazione di massa, debbano trovarlo perché gli unici che possono conservare le minoranze linguistiche, le nostre culture, siamo noi che ci occupiamo, insomma, in qualche modo della nostra cultura a livello locale. E non possiamo pensare di essere esclusi e schiacciati dai grandi major in Europa. Un progetto su cui stiamo lavorando da tempo e che è il progetto a cui tengo in assoluto di più è un progetto che si chiama MyCulture, è un progetto che nasce all'interno di un'ONG europea che è composta da circa 140 associazioni. Il primo progetto, il nucleo, si chiamava The Dream Network. E avevamo giocato su, non so se vi ricordate il film Ghostbusters, to cross the streams, cioè incrociare i flussi, cercare di mettere insieme le istanze di tutti per potenziare questo flusso tutti insieme e diventare molto più forti. Il progetto che sta nascendo è un progetto di video on demand. È il primo progetto di video on demand globale destinato esclusivamente ai film parlati in lingue minoritarie. E parteciperanno case di produzione di tutta Europa che proveranno a mettere insieme ognuno un soldino dentro questo grande progetto che è un progetto principalmente di condivisione. solo di condivisione ed è solo così che le nostre minoranze possono sopravvivere. Io sono assolutamente convinto della grande responsabilità che abbiamo, dell'idea che noi che ci occupiamo di comunicazione non possiamo non tenere presente e non tenere conto quanto è importante essere noi stessi custodi della nostra cultura. Ognuno facendo il suo pezzettino. Chi ha la possibilità di utilizzare un mezzo di comunicazione di massa come noi che gestiamo canali televisivi, abbiamo le web tv, abbiamo i giornali, abbiamo assolutamente la responsabilità di diventare un vettore di comunicazione per tutti. Per cui io quello che vorrei dire oggi e quello che penso sia importante in un contesto come questo, che è un contesto vicino ai cambiamenti della società, è che per guardare avanti, per essere più vicini a noi stessi, per saper portare la nostra cultura fuori, noi dobbiamo sapere da dove stiamo partendo. Noi dobbiamo essere assolutamente consapevoli, dirò una parola difficile, spero che la traduttrice lo capisca, è sull'Iminarzu, c'è la soglia di casa, noi la dobbiamo conoscere. Ecco, il mio progetto, il nostro progetto, il progetto su cui stiamo lavorando ha una soglia molto solida da cui partire, è un sacco di strada davanti che vede tante persone insieme lavorare nel rispetto di tutti e nella condivisione di tutti. Grazie. Grazie.